Cambia forma per la pandemia del coronavirus l'esame di maturità 2020 con il maxi orale, ma le emozioni rimangono sempre le stesse. Ansia, paura, nostalgia, ma tanta felicità per aver raggiunto un traguardo tanto atteso. E quest'anno la felicità è stata doppia, perché dopo aver concluso l'anno con la didattica a distanza, alluni e docenti sono ritornati a scuola. Una fortissima emozione dovuta anche a questa assenza lunghissima di tre mesi, che però non ha sminuito il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi cinque anni e soprattutto non ha cancellato il rapporto anche con gli amici e soprattutto con i professori, che si sono dimostrati anche in questo esame comprensivi e soprattutto molto vicini a noi, anche dovute le distanze. Quindi posso dire che sono molto soddisfatto del percorso di questi cinque anni e anche dell'esame. Mentre per quanto riguarda il salire le scale per l'ultima volta, diciamo è un'emozione più forte, che lascia appunto un lama in bocca. La didattica a distanza è stata complessa all'inizio, però successivamente, grazie all'aiuto anche al supporto tecnologico e anche all'innovazione che hanno portato i nostri professori all'interno delle nostre case, siamo riusciti benissimo ad andare avanti e a cogliere il meglio anche di questa didattica a distanza. La didattica a distanza è stata una bella sfida da affrontare nel mondo scolastico e fondamentale per la preparazione della maturità di quest'anno. Nel caso della classe che stiamo esaminando è andata molto bene, perché i ragazzi hanno partecipato molto attivamente alle lezioni della didattica a distanza e anche al percorso tortuoso dell'ordinanza, per cui loro hanno letto tutte le ordinanze, quindi mentre studiavano hanno cercato di capire che tipo di prova avrebbero dovuto sostenere. Questi esami sono veramente una novità per certi versi, però stanno procedendo in una maniera molto serena. Stiamo lavorando in armonia all'interno della Commissione, con i nostri presidenti. I ragazzi hanno preso con molta serietà l'impegno di venire a sostenere l'esame. Il bilancio di questa maturità è sostanzialmente positivo, come dedotto dal racconto di alunni, docenti, collaboratori scolastici e volontari della SAS Puglia. Fondamentale è stato il loro contributo per il rispetto delle norme di sicurezza.